Ciao ragazze, eccomi finalmente tornata in un nuovo video, sono davvero tanto contenta di essere tornata a registrare qui nella mia stanza perché da parecchio tempo, da un mesetto se non di più, che non registro più qui nella mia cameretta che fra poco dovrò lasciare, un po' mi dispiace comunque, scusate per la mia voce, sono un po' raffreddata, un po' il naso chiuso, quindi andiamo così ho messo il maglioncino, finalmente è arrivato l'autunno, quindi non vedo l'ora di indossare i maglioncini molto morbidi, coccolosi e sono qui, sono tornata con un video spacchettamento, o meglio un video degli ultimi pacchi che ho ricevuto nel corso delle ultime settimane che sono già andata ad aprire perché mi sono arrivati appunto diverse settimane fa alcuni li ho poi dato più tempo, altri sono più recenti, quindi i pacchi del mese diciamo e voglio farvi vedere un po' le novità che ho ricevuto in quest'ultimo periodo però ero tanto curiosa, quindi sono già andata a scocchettare praticamente tutto alcune cose le ho provate, altre invece non ho avuto ancora modo di provarle quindi ve le faccio soltanto vedere giusto per farvi scoprire tutte le novità di quest'ultimo periodo e sono diversi i pacchi perché guardate un po', adesso vieno se riesco a infilarli tutti senza fare disastri vediamo un po', ce la possiamo fare o facciamo cadere tutto, non lo so ecco qua tutti i pacchi che dovrò andare a mostrarvi in questo video adesso andiamo con ordine e non facciamo pasticci parto da questo primo pacco che ho ricevuto da Pixi e se non vado errando, questo è il primo pacco che ho ricevuto da più tempo ma che nonostante questo non sono ancora riuscita ad utilizzare i prodotti contenuti all'interno proprio perché ho tanti altri prodotti aperti non mi va ad aprirne di nuovi quindi li sto conservando e magari farò anche un giveaway perché ho ricevuto davvero tante cose e alcune di queste sono molto simili sono identiche a cose che ho già ricevuto in passato quindi sto pensando di accantonarle per regalarle poi a voi comunque in questo pacco di Pixi ci sono all'interno 4 prodotti di skincare abbiamo il Glow Tonic che è il tonico famosissimo che mi piace un sacco uno dei loro best seller ed è anche uno dei miei tonici preferiti lo potete trovare da Sephora qua ci sono all'interno parecchio grande ci sono all'interno 250 ml di prodotto però ancora non l'ho aperto proprio perché ho già una confezione da terminare poi c'è questo spray illuminante che si può utilizzare sia sul decolleté sia sui capelli che sul viso si può utilizzare sia per rifissare il make up ma anche semplicemente per dare un po' di luminosità al viso l'ho già provato ho già una confezione aperta mi piace molto infatti sono già arrivata a metà e l'ho iniziato ad utilizzare alla fine dell'estate quindi davvero l'utilizzo molto anche semplicemente per andare a illuminare il mio incarnato e mi piace realizzato con olio d'argan e poi c'è quest'altro che invece è un fissante per il make up con acqua di rose e tè verde questo non l'ho mai provato quindi sono curiosa di sapere come si comporta con me e poi l'ultimo prodotto anche questo non l'ho mai provato è un latte uno spray idratante indicato per le pelli secche con acido ialluronico anche questo sono curiosa di provarlo due prodotti li ho già testati mi piacciono gli altri invece sono una novità una scoperta anche per me mi piacciono i prodotti di pixi quelli di skin care più di quelli di make up sempre restando a tema pixi iniziamo e chiudo sempre e chiudo con il loro brand così poi passiamo agli altri ho ricevuto una decina di giorni fa questa box bellissima il loro colore è sempre questo verde però questa box mi piace molto perché riprende le classiche lettere che si spediscono per posta tant'è che c'è il franco bollo c'è l'indirizzo davvero molto bello e qua c'è la possibilità e qua si apre appunto questa busta questa lettera postale e devo dire non fare pasticci e voilà ecco qua il contenuto di questa meravigliosa box ok forse ce la posso fare a parlare continuo a passare a aeroplani fanno un casino pazzesco comunque all'interno di questa box abbiamo 11 rossetti liquidi abbiamo i primi che sono sui colori del nude con un po' più leggeri altri un po' più intensi comunque colori più portabili diciamo e poi ci sono gli ultimi gli ultimi 5 che sono delle novità perché tutti questi li ho già quindi non li ho neanche aperti li voglio tenere per voi o comunque regalare e poi ci sono gli ultimi 5 che invece sono delle novità abbiamo magenta abbiamo un rosso rosso più intenso abbiamo un bordeaux perfetto per l'autunno abbiamo un fucsia insomma colori appunto più intensi e che non ho provato perché appunto fanno parte della nuova collezione diciamo sono le nuove colorazioni mentre queste le già quindi sono belle intatte mentre invece da questa parte abbiamo dei cottini con diverse colorazioni c'è il giallo c'è il rosso c'è il bianco e c'è il bordeaux e poi abbiamo un contenitore trasparente per andare a realizzare personalizzare il nostro rossetto andare a creare la nostra colorazione per carità con tanto di spatolina per mescolare ancora questa questo fai da te non l'ho provato però sono curiosa insomma di personalizzare il rossetto in base alle mie alle mie preferenze poi ho ricevuto questi due prodotti è da sephora ho ricevuto questa nuova maschera fai da te un po' come i rossettini di prima anche qua c'è la possibilità di creare non di creare la propria maschera ma grazie continuo a parlare perché se no non finisco più questo video ma aggiungendo semplicemente dell'acqua all'interno di questo vasettino dove c'è contenuta appunto la maschera vera e propria la polvere si va a creare a modellare la maschera che poi va applicata sul viso si tiene un po' dei soliti 5-10 minuti quello che è e poi si va a risciacquare ci sono diverse tipologie a me hanno mandato questa al kiwi ed è una maschera indicata per andare ad opacizzare e ridurre l'imperfezione del viso curiosissimo di provarla specialmente perché è una maschera che un po' mi devo creare quindi mi piace molto questa cosa e l'altra maschera invece è questa la famosissima The Bubble Mask è arrivata anche da Sephora l'avevo già provata in passato di un altro brand ed è una classica maschera in tessuto che si mette sul viso ma che a differenza di tutte le altre è in punto di un prodotto che fa poi delle bollicine sul viso quindi si riempie il viso di bolle da tenere in posa i soliti 15 minuti poi si va a risciacquare in sostanza comunque è una maschera che va a detostinare la pelle la rende anche più purificata e più luminosa almeno questo è quello che c'è scritto sono curiosissima davvero di provare questi due prodotti di Sephora grazie mille poi passo a questo nuovo prodotto che mi ha mandato Clinique si tratta di un di un'acca gel in sostanza come vedete dalla confezione è completamente trasparente l'ho provata giusto un paio di volte e proprio la consistenza una volta poi stesa sul viso di acqua di acqua misto gel quindi me la vado ad applicare sul viso ed è perfetta per andare ad idratare la pelle io fortunatamente non soffro troppo di pelle secca neanche in inverno la parte del viso che mi si secca maggiormente sono le labbra la zona intorno al naso però poi nel resto del viso non soffro troppo di pelle di pelle secca però comunque ugualmente mi piace andare ad idratarla e questa per quel poco poco che sono riuscita a provare devo dire che mi piace perché è super leggera sul viso non appiccica si assorbe quasi all'istante quando sono di fretta mi piace comunque mettere lo stesso una crema e questa trovo che è super super pratica poi passo a questa meravigliosa box questa scatola bellissima che mi è arrivata da Benefit come potete notare e si tratta di prodotti per sopracciglia perché Benefit è uscita ha lanciato un nuovo prodotto per sopracciglia cioè guardate innanzitutto che bella questa scatola probabilmente potrebbe essere cambiata l'inquadratura perché si è scaricata la batteria perché non ho pensato di caricarlo prima di registrare il video quindi ho dovuto interrompere per una mezz'oretta ero rimasta alle matite di Benefit non so di preciso dove ero rimasta comunque vi stavo dicendo che la cosa che mi piace molto di queste matite è il fatto che ricordano tantissimo quelle che usavo io quando andavo a scuola non so se avete presente quelle multicolor che c'era il colore rosso il verde il giallo il viola sono mille mille colori la stessa cosa funziona anche con questa matita qua abbiamo quattro colori due colori scuri che servono per andare a disegnare le sopracciglia un marroncino un po' più chiaro per la parte iniziale il marrone più scuro per la parte finale e poi abbiamo due colori molto più chiari che servono uno per andare a definire il disegno delle nostre sopracciglia e l'altro che è un illuminante che serve per andare a illuminare l'arcata sopraccigliare io al momento ho utilizzato la colorazione numero 3 che è quella che si avvicina al colore delle mie sopracciglia però secondo me anche la colorazione 4 va bene ci sono 5 tonalità dalle più chiare alla tonalità più scura che è appunto la numero 5 la prima è indicata per le super bionde e la cosa che mi piace tantissimo di questa brow contour pro è proprio il fatto che sia un tutto in uno abbiamo 4 colorazioni all'interno di un'unica matita perfetta anche secondo me per portare in viaggio perché c'è tutto insieme e poi oltre a questa splendida scatola tutti questi splendidi prodotti tra l'altro non so se avete notato se si vede dall'inquadratura che le matite sono posizionate sopra questa tavolozza di un pittore poi c'è all'interno c'era anche questo pennellino da una parte c'è il pettinino dall'altra c'è il pennellino per andare a ridisegnare ancora meglio le nostre sopracciglia grazie mille benefit per questo regalo un'altra cosa che mi è piaciuta tanto è contenuta all'interno di questa scatola fatemi sapere sono l'unica che viene conquistata a tratta dai pack esterni prodotti di skin care o di make up cioè vengo troppo troppo a tratta a volte il prodotto che c'è all'interno non è valido come la confezione esterna magari tanto bella è la confezione però poi il prodotto in sé all'interno non è niente di che perché mi è già capitato invece di questo prodotto sono rimasta piacevolmente contenta si tratta di un prodotto coreano il brand si chiama G9 Skin non avevo mai provato niente di questo brand guardate la confezione quanto è bella riproduce perfettamente il cartone del latte la confezione piccolina bianco e rosa io amo troppo questa scatola cioè mi piace tantissimo e non sono riuscita a buttarla perché la trovo davvero graziosa all'interno comunque di questa scatola c'è questo prodotto che è una è una crema contorno occhi che mi piace tanto perché oltre che idratare e nutrire la zona del contorno occhi la va anche a illuminare quindi mattina e sera ne applico un pochettino ne basta davvero davvero poca quindi mi durerà un'eternità perché all'interno ci sono vediamo se viene riportato ci sono 30 grammi quindi davvero mi durerà un sacco però ahimè mi sa che non riuscirò a buttare questa scatolina perché è troppo cute si sa che i coreani comunque gli asiatici in generale quando si tratta di personalizzare le scatole dei loro prodotti sono sempre i numeri 1 e poi passo a questa scatola che mi è arrivata da Clarence la vedete al contrario perché non l'ho aperta al contrario e all'interno ci sono un po' di prodotti contenuti all'interno della sua borstina questo pacco mi è arrivato proprio l'altro giorno infatti non sono riuscita ancora a provare niente comunque abbiamo come primo prodotto un gel eyeliner waterproof all'interno di questo barattolino infatti c'è il suo pennellino piccolino ovviamente per andare ad applicarlo poi ci sono tre rossetti se non ricordo male esatto il rossetto numero 802 il rossetto numero 803 e il rossetto numero 801 e la cosa che mi piace tanto di questi rossetti è il pack un po' come prima perché abbiamo la confezione è tutta dorata con tutte queste labbra questi rossetti rossi bellissimo super elegante e questa è la colorazione 801 un rosso barra aranciato la colorazione numero 802 invece è un rosso un classico rosso diciamo mentre l'ultimo il rossetto numero 803 invece è un bordeaux davvero perfetto per questa stagione io associo il bordeaux sempre all'autunno non so voi ma per quanto riguarda i rossetti il mio colore perfetto che mi ricorda un sacco l'autunno è il bordeaux e una cosa che stavo notando adesso nella parte interna del rossetto c'è una colorazione diversa rispetto al resto del rossetto quindi immagino che una volta applicato il prodotto sulle labbra la parte centrale delle nostre labbra resterà leggermente più chiara proprio perché il colore interno è più chiaro vediamo se è così anche negli altri è più chiaro rispetto al colore vero proprio del rossetto sì anche qui è così bella questa cosa sicuramente ci sarà un bel effetto sulle labbra e poi l'ultimo prodotto è un mascara è super volume anche qua il pack identico ai rossetti bellissimo qua ovviamente però non ci sono le labbra ma ci sono gli occhi tanti tanti occhi e i mascara lo scovolino del mascara ovviamente un mascara total black super super nero non vedo l'ora di provare tutti questi prodottini grazie mille anche a clarence per questo regalino poi l'ultimo prodotto l'ultimo pacco che ho ricevuto arriva da puro bio questo pacco in realtà mi è arrivato davvero da tanto tempo però sono sincera non sono ancora riuscita a provare niente un po' perché ci tengo sempre a far vedere i prodotti belli intatti sapevo di voler fare questo video e quindi li ho tenuti da parte e un po' per naturalmente tanti prodotti aperti che mi dispiace sinceramente andare a aprirne di altri sapendo poi che non riuscirò mai a finirli quindi probabilmente anche di questi prodotti di puro beauty terrò qualcosa per voi innanzitutto questa collezione si chiama Luxos il lusso è una necessità che inizia quando la necessità finisce Coco Chanel le novità di questa collezione sono tre nuove colorazioni di ombretti tre nuove tonalità di rossetti una nuova cipria cinque nuovi correttori e sei nuovi fondotinta e in più che non vedo scritto qua c'è anche la nuova mini blender ideale per l'applicazione di fluidi o di polvere ed è una appunto una sfugnetta piccolina anzi ce ne sono addirittura due una media e una piccola piccola per utilizzare nella zona del contorno occhi viola poi c'è la nuova silky powder quindi la nuova cipria in polvere libera che è un color non è proprio totalmente bianca è un color giallino un color crema molto molto leggero curiosa di provarla poi ci sono c'è un pennellino questo è il rossetto nella colorazione 13 un bellissimo bordeaux perfetto per questa stagione poi abbiamo la colorazione 14 che è sempre un bordeaux proprio forte rispetto a quello di prima e la colorazione numero 15 invece è un bordeaux con una punta di viola all'interno curiosissima di provarli il rossetto di polvere mi piacciono molto ho tutte le colorazioni e mi trovo bene davvero con tutti i colori poi ci sono i nuovi ombretti all'interno di questo sacchettino no vabbè i colori di questi ombretti sono spettacolari non vedo l'ora di provarli sono tre ombretti shimmer quindi perfetti per le feste abbiamo l'ombretto 23 che è un color silver l'ombretto 24 che è un dorato e l'ombretto numero 25 che invece è rosato oro rosa bellissimi non vedo l'ora di provarli poi ci sono appunto i nuovi correttori luminosi sublime io ho la tonalità 01 la tonalità 02 ed eccoli qua a vederli così mi sembrano super super chiari ma non vedo l'ora di provarli perché mi incuriosiscono davvero tanto e vi farò sapere sicuramente come mi trovo magari anche in un get ready with me e poi l'ultima cosa che manca sono i nuovi fondotinta di bianco questi sono i fondotinta sembrano quasi fondotinta mini perché sono abbastanza piccoli comunque mi hanno mandato anche per i fondotinta le colorazioni più chiare la colorazione 01 e la colorazione 02 però come vi ho detto prima in totale ci sono 6 colorazioni spero che non siano troppo chiare per me bisogna agitare il prodotto prima dell'uso e il prodotto viene si trova all'interno di questo contenitore e ha il dosatore a contagocce che mi piace molto come cosa sono davvero curiosa di provarli perché in passato mi sono trovata benissimo con il loro fondotinta sublime il classico e quindi non vedo l'ora di provare anche questo ok vi ho fatto vedere sto guardando per non rischiare di non indicarmi nulla no vi ho fatto vedere tutte le cosine che ho ricevuto nell'ultimo periodo mettete un bel pollice in su se i video spacchettamente vi piacciono così continuerò a farli mi raccomando iscrivetevi al mio canale per non perdere tutti i miei prossimi video vi mando un grandissimo bacione noi ci vediamo presto ciao 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 ciao